Buongiorno a tutti, io sono Alberto Ciumbito e oggi vi inauguro una nuova miniserie che si dedicherà al P.W.T. Vi spiegherò perché ci sono determinati personaggi nel P.W.T. Sairus, perché Sairus è presente nel P.W.T.? Beh, molti di voi si chiederanno perché questo personaggio lo vedete in una cosa... Se per caso è rimasto intrappolato, come sappiamo tutti quanti, in una platina è rimasto intrappolato nel mondo... come si chiama? Nel mondo distorto, comunque vengono evidenti di platino. In questo universo. Beh, per un semplice fatto. Il fatto che Sairus chiaramente non rimarrà nel mondo distorto alla fine di Pokémon, alla fine degli avventi, dopo qualche tempo Ghiratina, che non è stato catturato da nessuno, tornerà di nuovo nel mondo distorto, ovviamente, e chiaramente caccerà via Sairus. Perché? Che cazzo ci fai lì, onestamente? Non lo terrà nel mondo distorto, verrà cacciato via. Però ormai il Team Galassia non si fiderà più di Sairus, ovviamente, per il fatto che adesso comanda il Team Galassia, ora come ora, è guidato da Saturno. E Saturno, come viene detto nei giochi, e come verrà chiaramente spiegato anche in questo mondo qua, Saturno deciderà di valtare le spalle a quello che era il Team Galassia, a quello che era diventato. Difficilità di farlo diventare un'azienda dedita allo sviluppo. E quindi i piani di Sairus non potranno mai più essere applicati, e automaticamente non potrà mai più essere messo come capo del Team Galassia, perché non vuole più creare questo nuovo universo. In più, Saturno, sapendo che Sairus non avrebbe mai, e poi mai, fatto anche loro diventare in questo nuovo universo, non lo rimetterà mai più come capo, e non si fiderà più a lasciarlo come capo. Verrà supportato per vivere in giro, perché ne so, vivere in giro nei posti, ma non sarà mai più il capo del Team Galassia, e quindi automaticamente non viene più visto come tale. E automaticamente, perché però partecipare al P.U.I.T.? Per il fatto che è un allenatore forte, e in più, forse, riesce a riprendere gente a partecipare al P.U.I.T., facendo vedere le sue idee, chi lo sa. Anche se è difficile, ma comunque, vuole pur sempre provarci, è pur sempre Sairus, lo sappiamo già come hai fatto. Potrebbe sempre provarci, ma non ce la farà mai, per il fatto che ormai nessuno si fida più, però... Chi lo sa. Con Sairus abbiamo finito, avremo altri personaggi che verranno spiegati, come Ghechis, Giovanni e Baradam. Vedrete come è messo il torneo, e cosa è cambiato. Comunque Sairus non è cambiato di molto, semplicemente non ha più il potere. Deve metterci a me due è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie.